ciao ragazzi e ciao ragazze bentornate o ben arrivate sul mio canale per chi non mi conoscesse io sono cinzia e oggi voglio parlare con voi dell'ultima palette di anastasia beverly hills la prime rose ma prima di iniziare a parlarvi di questa palette se non siete ancora iscritte al mio canale qui sotto c'è un bontocino rosso mi raccomando cliccateci sopra a voi non costa nulla e per me molto importante e attivando la campanellina entrerete a far parte della makeup love community ora però iniziamo subito a vedere la palettina di anastasia ragazzi questa è la palette di anastasia beverly hills la prime rose si presenta in un packaging rosa cipria con la scritta in rose gold e apriamo subito la palette allora premessa io ho sentito non parlare benissimo di questa palette ma io sono sempre contro tendenza non me ne frega una cippa ma sono acchiappata questa è il packaging primario e si presenta anche questa in un color rosa cipria con nella scritta in rose gold con gli angolini qua in in rose gold e non me ne frega appunto una cippa lippa di cosa dicono di questa palette a me a occhio così mi è sembrata carina e quindi l'ho voluta provare visto che comunque anastasia ha delle belle texture per quanto riguarda gli ombretti le palette tanti hanno criticato questo questa cialda qui che non c'entra niente con la palette può essere che non c'entra niente con la palette ma non mi interessa cioè sinceramente come vi ho già detto nel video precedente che io compro perché è una cosa potrebbe piacermi e non perché va o non va su youtube quindi io ho deciso di provarla perché non mi dispiaceva come tonalità colore poi ora vediamo la scrivenza ovviamente so che comunque anastasia è un brand di qualità e quindi vado più o meno sul sicuro ora andiamo a prendere una un colore di transizione e vado a prendere honey questo colore qui la base l'ho già ricreata e cioè poi vabbè comunque anastasia ragazze è anastasia è un ottimo brand e secondo me questa palette è molto carina se non si vuole usare questo colore come blush si può utilizzare secondo me benissimo come ombretto quindi cioè come il blush rosato qui si può utilizzare come ombretto non è detto che per forza si debba utilizzare come blush e quindi è giusto dargli una possibilità e comunque non mi è dispiaciuto vederla ricordatevi che vederla sul sito di sephora non è mai come vederla tante volte anche le palette tipo di Natasha Denona piuttosto che Pat a vederle online non sembrano così belle poi quando le avete sotto le mani wow quindi attenzione a quello che vediamo poi vado utilizzare claret che è questo colore qui sempre con lo stesso pennello e lo porto all'angolo così e lo vado un po a sfumare mi porto un po verso l'esterno e poi andiamo a sfumare con un pennello da sfumatura comunque le polveri ragazze come potete vedere sono stra wow come quelle solite di Anastasia e a me piace tantissimo vado con un cambio pennello e sfumiamo insieme questi prodottini anzi facciamo così io mi sto guardando su uno specchio un po distante non riesco a staccare mi piace tenere le palette sempre belle vabbè fa niente lascio lì volevo togliere ah ci sono faccia l'ho fatta eccola qui la plastichina del vetro così mi guardo direttamente dalla palette non ho mai il vizio di guardarmi nella palette non so per quale motivo uso sempre lo specchio più grande mentre in realtà non è male usare anche lo specchio che troviamo all'interno delle palette soprattutto se comunque vabbè a me interessano gli occhi quindi ci sta è bello anche guardarsi con questi specchi che non sono male ok con lo stesso pennello vado ad intensificare un pochino con deep berry l'angolo esterno dell'occhio anzi lo cambio lo prendo più stretto e prendo deep berry e lo porto proprio qui molto oscuretto che bello l'inverno ragazze meno male era ora che arrivasse l'inverno io adoro adoro l'inverno non si suda ci si può truccare in santa pace ma vuoi mettere ma vuoi mettere prendo un pennello piatto prendo sempre deep berry e lo porto nella rima ciliare inferiore ci si trucca con più piacere no d'inverno che d'estate d'estate sudi cosa ti metti io sinceramente non mi metto difficilmente non mi metto neanche quasi la crema perché quando arrivano quelle caldazze no no lasciamo stare poi per l'amor di dio eh sarà che sono nata a dicembre ma adoro adoro l'inverno il mio mese preferito non c'è non c'è è l'inverno in generale sfumo non ho un mese preferito particolare ma è l'inverno in generale che amo 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 ok fa un po' di fallout eh poco poco lo fa ma neanche tantissimo poco poco di fallout lo fa poi vado a prendere con il pennello piatto prim rosa che è quello che dà il nome alla palette che è questo colore qui è un lilla viola con dentro dei glitter rosa con dentro dei glitter oro che secondo me applicati sulla palpebra si vedono proviamolo batto l'eccesso perché sono un po' polverosetti ma no non si vede neanche più di tanto no no non si vede neanche più di tanto volevo utilizzare un po' di colori no ragazze non si vedono quindi se avete paura di questo colore con i glitter rosa che sono tra le altre cose molto sottili posso garantire che non si vedono sulla palpebra almeno io non li sto vedendo quindi tranquillamente tranquilli ora vado a prendere rose water questo colore qui e lo porto sul restante palpebra questo questo è un colore diciamo molto morbido quando voi gli passate il dito non è molto pressato come come cialda però è molto 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 bello cioè guardate l'ho solo toccato e si può dire che ci faccio tutti e due gli occhi va bene prendo ancora un pochino però poco poco e lo vado a portare ok perfetto molto carino ora ragazze non c'è un colore chiaro da portare sotto l'arcata sopra ciliare quindi vado ad applicarne uno di un'altra palette e vado ad applicare un illuminante un po' all'angolo interno allora ragazze ho terminato il mio make up ho utilizzato il mascara di MAC ho utilizzato la QPR nera di Nabla ho utilizzato come punto luce e anche sotto l'arcata sopraccigliare l'illuminante di Huda Beauty in crema devo dire che è bellissimo sulle labbra ho utilizzato una matita e un gloss vado adesso ad applicare il blush vado ad applicare il blush rosato questo qui e anche questo devo dire ragazze che si può tranquillamente utilizzare come questo rosa è bellissimo tra le altre cose si può utilizzare tranquillamente come ombretto quindi non soffermiamoci sulle cialde di blush fanno schifo non c'entra niente cose del genere perché comunque anche questo rosa non è un rosa freddo ma è un rosa caldo quindi cioè alla fine a me non mi dispiace anche se non amo particolarmente i colori caldi però è un rosa molto carino a me piace sì è vero ragazzi questo blush non lo userei mai non lo userei mai neanche come terra perché è troppo aranciato vi faccio lo swatch sulla mano è troppo aranciato però devo dire che come ombretto si potrebbe utilizzare benissimo quindi non soffermiamoci sui blush o cose del genere per quanto mi riguarda la palette di Anastasia è una palette valida come tutte le palette di Anastasia come tutte le palette di Anastasia fa un po' di fallout anche se ho battuto bene l'eccesso ho prelevato piano piano il prodotto tutto un pochino poco poco me l'ha fatto ma proprio pochissimo e devo dire che questo makeup ragazze mi piace tanto quindi per me è promossa questa palette è secondo me sottovalutata ma in realtà per me è promossa mi piace non è proprio freddissima però ci sta ci sta come come colorazioni quindi per me è promossa ragazze fatemi sapere voi anch'io sono andata sul perché vedendo le recensioni non facendo video vado a vedere quelli degli altri però sinceramente non mi faccio mai influenzare su quello che dicono gli altri anche se sono quelli più strabravi non mi faccio influenzare e quindi l'ho presa per quanto riguarda appunto la paletta mi piace spero che sia piaciuta anche voi non lasciatevi influenzare da nessuno se pensate che vi possa piacere prendetela vi lascio un bel bacione e mi raccomando se questo video vi è piaciuto spolliciate all'insù e ci vediamo al prossimo video ciao